Il progetto Youths credo che sia estremamente importante per i giovani. Mi aspetto che questo progetto permetta di rendere più concreto il rapporto tra i giovani e le istituzioni. L'esperienza molto interessante è quella di Youths. Il fatto che i giovani vengono ascoltati è molto apprezzato, è un'opportunità molto interessante e spero che possa essere riproposta anche l'anno prossimo perché vedo che i ragazzi sono contenti di essere ascoltati. Autore dei sovrapposti